buonasera a tutti veramente non buonasera ma anche se come buonanotte a tutti che tardissimo e ma trovo ancora lavorare e prendendo la pausa tra una una cosa e l'altra un rituale l'altro ovviamente uno dovrà distrarsi anche per ricaricarsi le energie e per questo sto sfruttando questo momento per dire alcune cose che sono importanti non pretendo che siete tanti in diretta perché la diretta non è programmata come sempre ricavo il momento e così provo di fare la diretta però è una cosa importante da dire le persone che si stanno lavorando con me adesso buonasera buonasera a tutti questo video andrà caricato anche solito perché sarà anche una cosa che sarebbe sarà utile per le persone che in futuro si rivolgeranno dunque io più che altro volevo parlare anche se avevo già parlato riguardo le purificazioni ok però stasera vorrei a precisare purificazioni di coppia come funziona cosa servono e soprattutto come comportarsi durante le purificazioni di coppia allora a prescende di come comportarsi e cosa accade durante la purificazione vi voglio dire che io ho cominciato a selezionare amici ormai ho cominciato a selezionare le persone con quali lavorare e vi spiego perché perché siete veramente diventati tanti tantissimi e praticamente è impossibile accettare tutto lavoro quello che chiedete di accettare quindi fino a questo tempo fa magari cercavo di rispondere a tutti e accettare tutti adesso andrò selezionare sia per voi per rendervi accessibili che magari potete avere il mio aiuto anche perché perché veramente adesso prenderò chi veramente ha bisogno di aiuto e anche per me per alleggerire un po lavoro perché sento che mi sto stancando perché come ve l'ho detto io oltre facebook e le reti sociali oltre youtube io gestisco anche le persone del posto però le persone del posto non sono mai così tanti come questi che sono belli del social vengono e credo che è arrivato il momento di precisare le cose allora io non sono qua per guadagno per il per lo scopo di commercio a me mi importa il risultato ok per avere risultato di ritualistica non dipende solamente da me purtroppo dipende molto anche da chi si rivolge questa informazione sarà anche utile per chi sta nella strada per praticare chi sta imparando per diventare un pratico quindi anche questo per voi sarà molto importante da sapere dunque importante di selezionare la persona quale con quale voi prendete lavoro perché se le persone sono molto agitate quelle che non si riescono a gestire quelle che vi disturberanno in continuazione non avete appena iniziato il rito loro già vi chiamano già voi non spiegazioni già voi no già voi non risultato allora queste persone tanto se capiscono subito perché loro anche dall'inizio sono quelli che vogliono tutto il subito cioè ci se percepisce però all'inizio magari cerchi se sei molto buono cerchi di aiutare perché infatti per questo uno è qui e quindi li accetta e dopo comunque andando avanti si accorge che comunque e come ci diceva intuizione e così infatti e così infatti e va dunque riparleremo durante purificazioni di coppia allora purificazioni di coppia che in seguito porta avvicinamento voglio precisare che non è un legamento perché tante persone anche se avevo spiegato rispiegato dopo non lo so perché cambiano idee e pensano che è un legamento no legamento si lavora diversamente per fare un legamento vi serve sempre il biomateriale di persona quale legate quando le persone si rivolgono a me e dicono che si preoccupano perché avevano fatto legamento nel passato io prima domanda che faccio avete dato il biomateriale della persona da legare cioè capelli sperma maglietta sudata mamma qualsiasi unghia ma qualsiasi cosa dovete dare perché la foto per la fattura di legamento non basta non basta è come per dire ecco dovete arrivare la luna e non ce l'avete una navetta spaziale è la stessa identica cosa non è possibile fare una fattura di legamento senza il biomateriale e questo che deve essere una regola feria per chi veramente vuole praticare perché usa per chi usa il cervello perché nella pratica ci serve il cervello chi invece vuole raccolere i soldi dalle persone e semplicemente truffarli ovviamente dice che è che è un legamento e dopo farà li bloccherà scapperà e tutto quanto dunque il rituale quello che faccio io a voi quelle purificazioni di coppia cosa servono cosa funzionano e quando funzionano ok quando aspettarsi l'effetto allora questi rituali esclusivamente andranno al porto quando tra le persone c'è o c'era il sentimento ok quando le persone si sentivano attratti se c'era il pizzico di sentimento e magari adesso questo periodo si stanno allontanando per vari motivi possono essere diversi possono essere problemi economici possono essere odio tra di loro infedeltà può essere che una persona non crede più oppure mamma sono miliardi miliardi di motivi infatti che creano i blocchi per tra queste persone le persone si amano però non riescono a stare insieme perché anche se si amano se vogliono bene bene comunque si allontanano per qualche motivo dunque e questo è la purificazione di coppia quando si fa la purificazione di coppia nel programma nell'orazione si elenca tutti questi problemi che tra l'altro comprende pure le fatture ok possono essere le fatture per separare una coppia le fatture per farsi odiare la coppia le fatture per freddare i rapporti sessuali di una coppia le fatture per allontanare soltamente solamente sentimenti di una coppia ci sono addirittura le fatture ragazze tanto io queste cose vi darò mano una mano perché è impossibile di darvi tutto insieme perché io ho fatto come tipo gradualmente vederò gravità e anche potenza ok di di queste rituali quindi ci sono addirittura le fatture che una persona ci si può schifare dall'altra l'altra persona gli può puzzare scusate per termine ma così c'è una fattura che si può fare a una coppia che ad esempio marito sentirà che la moglie puzza o viceversa non avete mai sentito una cosa del genere invece funziona dunque nella nel lavoro che faccio io tutte queste cose vengono elencati elencati tutti questi problemi sono fatti apposta dai ritualisti questi riti dove si elencano tutti questi problemi ad esempio quando ci sono i blocchi economici ok ad esempio l'uomo ha perso lavoro uomo non gli mancano non abbastanza soldi per uscire per mantenere la donna questo non significa che facendo questo rituale uomo diventa ricco è solamente gli farà pensare in altro modo cioè quel problema economico nei suoi occhi non sarà più problema ok lui comunque dovrà risolvere il problema però lui non 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 unirà quel problema al rapporto cioè per lui problema questo economico non sarà problema del rapporto loro ecco cosa cosa si fa questa purificazione ecco cosa significa togliere dei blocchi ad esempio se un uomo è quello che gli piace guardare altre donne questo rituale toglie il distrazione sulle altre donne non lega alla persona che la coppia ma toglie la distrazione oppure se sono state fatte le fatture queste fatture non è che se toglie la fattura ad esempio il suo uomo marito è stato fatturato da un'altra persona ok voi facendo la purificazione di coppia vi avvicinate voi vi riuscirete più notare da lui perché legamento non è più lui e avevo spiegato già che cosa legamento voi riuscirete più farvi notare da lui però dopo la fattura dell'uomo va comunque tolta cioè non è che io con purificazione di coppia che sarebbe il legame tra voi due gli toglierò la fattura questo che deve essere chiaro a parte che questo ho spiegato a persone a voce ok e questo deve essere chiarissimo l'altra cosa quando se fa rituale questo anche errore mio perché io per dimostrarvi che perché le persone purtroppo giorno oggi ci sono un sacco di truffaldini e le persone non si fidano più dei veri praticanti dei veri pratici e magari vogliono le conferme ok che tu stai facendo questo rito e ovviamente io le mando le foto guardi neanche questo non deve essere quando si fa ritualistica le le telefoni devono essere spenti o messe via nell'altra stanza telefoni non ci devono interferire non ci devono distrarre non si può fotografare e non si può neanche mandare il video io infatti da oggi in poi ho deciso di non farlo più e non perché perché vorrei fare un qualcosa che magari io perché ho deciso così quando decide un pratico come fare questo è per miglior risultato del rito quando un pratico decide di fare un qualcosa deve essere così tanti mi hanno scritto Lilia non mi mandare le foto tanto mi fido ciecamente e io con queste persone riesco anche lavorare meglio ma quelli che mi punzicchiano appena iniziato rito e già mi punzicchiano mi mandano i messaggi che mi scrivono oggi non mi ha guardato oggi non non si è fatto sentire oggi oggi non non mi ha scritto niente allora non dobbiamo neanche parlare riguardo se voi volete il risultato ritualistica e come se anche nel cristianesimo dicono che il mistero ritualistica è un mistero non ci si può parlare del rituale mentre che si sta svolgendo io quando devo fare ritualistica esco da casa e non dico neanche ai miei che io vado a fare rituali io dico che vado a lavorare cosa vado a fare loro neanche mi chiedono perché lo sanno già e così deve essere anche voi quando fate dei rituali dentro casa qualsiasi o attirate la fortuna o chiedete della fortuna qualche aiuto o purificazione voi non dovete dire a nessuno dentro casa che state facendo così questo è la legge se non credete a me informativi ma dalle persone che praticano non dai dai buciotti che vi propongono le cose giusto per prendere i soldi da voi e dopo spariscono rituale è un mistero non deve essere parlato né fotografato né niente una volta finito una volta finito non dovete aspettare ogni minuto quando sarà l'effetto rituale va fatto e va scordato fatto e scordato non pensare più sopra questo lo so difficile difficile pensare perché magari una persona aspetta che un uomo si avvicina è difficile allora pensate uomo non pensate a rituale allora è importantissima collaborazione oppure che ti chiedono a poi controllare se è andato il porto io lo so che va al porto se voi andate a controllare sopra è come se voi non date la fiducia a quelle forze che ci lavorano è importantissimo io voglio che questo sia chiaro per tutti che si rivolgono se voi non siete pronti a questo io lavoro non accetto semplicemente non accetto io veramente ci sono le persone che mi sono pentita di prendere il lavoro perché mi scrivono ogni giorno io da oggi smetterò di mandare le foto del lavoro tutto quanto perché io lo so che non va bene perché anche se mando le foto già non va bene per rituale allora penso che questo con questo sono stata chiara poi purificazioni quelle lì che si sta facendo purificazione personale allora quando si fanno purificazione personale i passati quel tre mesi voi dovete agire questo non significa se io vi faccio purificazione arriveranno tutti i lavori quello che volete arriveranno gli uomini tutti quelli che volete avrete tutto quello che volete con una purificazione purificazione e togliere negatività togliere blocchi dopo comunque dovete agire dovete cercare di trovare il lavoro e di lì avrete più possibilità di farlo perché i blocchi non ci sono più dovete agire anche dovete continuare con ritualistica per il reggore del denaro dovete sempre muovervi perché cosa purificazione a togliere i blocchi togliere negatività e come uno si fa fa la doccia non è che uno ha fatto la dotta non ci veste niente esce fuori prima nudo per strada uno si veste prima si asciuga dopo si veste se trucca se fa i capelli esce saluta la gente entra al lavoro qua la stessa cosa purificazione è la doccia che vi si fa e dopo voi dovete vestirvi tutto quanto cioè non è possibile che con la purificazione la gente mi pretende che le cose subito devono assolutamente avere lavoro tutto quanto purificazione è purificazione dopo dovete agire per avere gli effetti gli altri effetti che avrete molto più facile di arrivare invece che prima senza purificazione io voglio che questo sia chiaro se voi pensate con la purificazione io trasformo la vostra vita in un regno assoluto beato non venite da me io non accetto le persone così poi queste fregnone soprattutto io adesso smetterò veramente prendere lavori di coppia perché sono peggiori i lavori che possono essere peggiori perché queste persone qua non te lasciano in pace un secondo ti chiamano ogni minuto e ti stressano per via cioè veramente io non ce la faccio più lavorerò con le persone con quale dovranno cambiare la vita quando c'hanno problemi economici problemi con la giustizia problemi con la salute io questi qua persone che piangono sempre per gli uomini non comincerò di non accettare più perché vedo che un lavoro molto non c'è non c'è risco c'è riscontro di gratitudine perché perché vogliono tutto e subito nella magia non esiste tutto in subito nella magia ci sono i tempi ma come dappertutto se fa il rituale e dopo tocca dare il tempo di arrivare a questo effetto ma se voi me stressate se voi mi scrivete ogni volta io quando vedo infatti alcune persone sicuramente se sono accorti che faccio purificazione di coppia l'ho fatto già più di quel periodo che dovevo fare perché ci si fanno o tre o cinque o nove o dodici per alcuni già ho superato pure dodici notte perché vedo io vedo da sola che non basta quindi faccio come se forse secondo giro quindi nei quelli soldi che hanno pagato già compreso molto probabilmente pure il secondo il giro secondo tour e le persone quali ho contattato e ho detto che parto per la seconda volta perché non mi piace l'effetto viene dalla mia iniziativa ok quindi materiale tutto quanto già era compreso nel prezzo quindi non mi stressate se io accetto il vostro lavoro questo significa che voi siete stati fortunati perché tanti non sono stati accettati però quando siete qui dovete collaborare perché se voi non collaborate con me io da sola la magia non è bibidi bobidi bu la magia è un grosso e molto duro lavoro ma voi sapete che io la candela questi qua candele che io leggo aspettate quindi questi grandezzi qua ok queste candele sono di 37 minuti che praticamente brucia 37 minuti quelle candele quando io accendo tutte quelle candele che ci sono parecchie candele da accendere e dopo finché loro non finiscono di bruciare io tutto il tempo devo leggere orazione allora ferma in quelle posizioni come le messi e tutto il tempo devo leggere allora tempo significa mezz'ora io mezz'ora non posso né muovere nella testa non bere cioè non parliamo neanche di bere l'acqua né muovere né le gambe né le mani devo guardare le candele e continuazione a leggere quando finisco a fare una purificazione di coppia a me mi gira la testa da quanto ho letto per mezz'ora proprio ciò giramento di testa la gola si secca che qualche volta uno sputa il sangue scusate per tutti questi chiarimenti ma io devo dire che cos'è il vero lavoro fatto come se deve proprio viene la gola talmente seccata perché tutto il tempo ho letto e non potevo bere però dovevo leggere per forza che me se credono ferite dentro la bocca quindi non è facile non è facile quindi già uno mette tutto quell'impegno e voi cominciate andare dagli altri pratici per controllare il lavoro se è stato fatto o no questo lavoro non andrà al porto perché io vedo che voi entrate io quando lavoro vedo che voi entrate con altro pratico per controllarmi io li vedo c'è il modo da vedere capite qual è il problema e quindi voi mettete i bastoni tra le ruote il lavoro non andrà al porto molto importante se voi collaborate con me e questo che sia chiaro le fatture di legamento le faccio non è che non le faccio ma solo negli estremissimi casi perché che cosa legamento avevo già spiegato la fattura non la faccia a una ragazza che vuole un ragazzo la fattura si fa e vi faccio uno degli esempi il marito e i mogli si sono conosciuti da giovani hanno fatti i figli hanno costruito business insieme hanno cresciuti insieme hanno cresciuto i figli hanno veramente non dormito non mangiato per creare il business dopo passando il tempo la moglie si invecchia lavorando lui si troverà una russa e se ne va perché perché così perché dirà che anche lui vuole vivere che c'è un po decidere però la moglie intanto rimane con figli da gestire ovviamente con pochi soldi perché business ovviamente rimane di solito a lui e dopo rimane pure da sola e i contanti a magari anche mutui ancora da finire da pagare io questi mariti qua che cosa si fa se prende per l'orecchio e si porta dentro la famiglia io sono sempre da parte della famiglia e sarò sempre da parte della famiglia e non andrò mai quindi quelli donnine io lo so che andranno contro di me perché già ho avuto io quando a dire una volta con le buone non accetto lavoro non accetto lavoro non accetto io le famiglie non li rovino e loro continuano a scrivere già sono andate a dire a dire in giro sono arrivati oggi screenshot che io non accetto lavoro di legamento perché non lo so fare io non rovino le famiglie qua la differenza qua la differenza perché se tu che brucia la conchiglia vai dall'altra parte far paga gli altri e loro te fanno legamento e se te lo fanno te fregano te rubano i soldi basta perché per fare il legamento deve essere capace di fare prima e secondo deve avere le forze per farli e di quelli lì che vedo in giro non ho ancora incontrato nessuno di quelle veri capaci perché veramente ci sono veramente pochi io questo video pubblicherò anche nel youtube che così ogni volta chi vorrà fare questa purificazione di coppia deve sapere che questa purificazione funziona se sentimento c'era e ci si è messo qualche blocco successo qualche blocco i blocchi c'è se non possono essere tantissimi avevo elencato quali sono se sentimento non c'era mai qui rituale non funzionerà non dico contro me gli interessi se voi pensate che questo sono i miei interessi di guadagni se non c'erano i sentimenti cosa purifico io quale strada purifico purifico ma tanto se non c'erano sentimenti lui non ci viene e questo è questo che dovete capire questo che è importante molto importante cosa aspettare dopo la purificazione allora una volta fatta purificazione finiti tutti tutti notti da leggere ripeto o tre o cinque o nove o dodici cosa aspettare devono essere cambiamenti e questo anche questo avviene da zero a tre mesi non succede giorno dopo che ho fatto il rito primo rito succede da zero a tre mesi se voi pensate quelle che vi dicono nella pubblicità subito effetto giorno dopo legamento senza peccato andate di lì e accendo pure l'orchestra e vedo pure la bandiera in mano tutti di lì tutti verso di lì qui lasciate in posto per la gente intelligente ok e non è anche questione qua non è questione ma a me non mi frega niente tanto ci sia la fiducia o non c'è la fiducia qua è importante perché se no dopo risultato non c'è se io comincio a sprecare così il tempo e energie spesso quando si fa ragazzi quando si fa rito andate da qualsiasi parte da veramente dei pratici che praticano e domandate ascolta ma quando si fa rito ci si può registrare si può ascoltare una foto non si può fare e basta perché come mai perché così e basta io l'ho fatto solamente per tranquillizzare le persone perché ho visto di tutti i colori in giro però sto sbagliando non lo devo fare ecco io non è che non ce l'ho con nessuno solamente che devo veramente dovevo veramente registrare questo video perché a spiegare a ognuno non c'è il fiato non c'è il fiato io vi dico se io prendo una persona o persona che mi ordina il lavoro io lavoro lo porto in termine mi porto sempre lo porto in termine però me dovete collaborare dovete collaborare non credete in quella cosa che con macchetta magica vi faccio un incantesimo dovete sapere che il lavoro molto 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 duro molto duro la magia è il lavoro durissimo quindi a essere invidiosi alle persone che stanno qua a praticare e da sciocchi io vorrei avere la vita vostra e non vi rendete conto quante volte ho provato di lasciare non è possibile perché appena riesci provi a lasciare che cominciano a succedere le cose sgradevoli finanziari coi parenti eccetera ma anche voi elencare con la mia bocca perché voi se lavorate su un lavoro domani decidete fare un altro voi potete fare io no voi se voi volete di fare a una vacanza mettere quattro soldini da parte andate io non posso fare perché se vado in vacanza anche una settimana e non ricevo la gente già subito si vede come si inferociscono su di me ma sapete quante volte avevo lasciato un giorno libero un giorno libero uno per magari non fare i consulti per non non rispondere alla gente semplicemente staccare non mi era mai uscito mai uscito mi succedeva sempre qualcosa e comunque dovevo andare e fare quel lavoro o te arrivano emergenze perché io lavoro pure con gente del posto come emergente emergenza di oggi che capita una emergente così tese che se scorbutica tutto il lavoro ad esempio stasera ci avevo purificazioni da fare di copia non li faccio dovevo fare apertura delle strade non li faccio sapete perché spiego perché quando si fa la fattura quando ti capita una fattura e tu vai a togliere questa fattura va elevare eliminare tutto quando dipende ci sono diversi modi di eliminarla o con bruciamento però quella fattura andava messa proprio tolta con cimitero perché la fattura era pesante quindi io me è meglio che stasera le mani su purificazioni non li metto per questo sto registrando il video ho fatto il consulto con una persona e dopo richiamato le persone quelle che dovevo fare apertura delle strade e adesso lo sto registrando questo perché vi spiego è come se forse adesso io ho avuto che cosa è una fattura fattura è un programma sono le energie io sono andata lì le ha prese l'ho dovuto eliminare quindi c'è sempre il rischio che sono rimasta contaminata io per scontaminarmi lo so per purificarmi come farlo come fare facciamo sempre noi viviamo in questo mondo è come per voi andare e sporcare le scarpe con il fango però con quel fango non potete andare e camminare dentro i tappeti bianchi e come vostri purificazioni non posso mettere le mani meglio sporchi sulle vostre purificazioni quindi stasera devo dedicarmi per togliere questa cosa qui e domani rimettere il magno sulle purificazioni se non lo faccio stasera non succede niente se fa una notte sì una notte no io facevo ogni notte per fare lavoro veloce per farvi effetto veloce ma anche quello va bene perché uno sfinisce le energie perché investo le energie nel rituale che cosa energia se uno non c'è energia il rituale non funziona quindi posso mi posso sentire qualche volta stanca qualche volta posso avere il ciclo giusto giusto se non mando le foto subito mi scrivono come mai stasera non ha fatto niente quindi è allucinante allucinante io sono così come sono così come mi vedete io sono così con voi sono così con i miei parenti sono così con la mia famiglia e non sono mai falsa non sono mai quella che esce sul youtube o sul facebook per farsi vedere per farmi io così come sono così mi troverete se venite a trovare mi troverete qua a mezzo alle candele e eccolo ecco il lavoro guardate guardate che casino che c'è guardate questo la vita di una strega guardate guardate vedete vedete come vivo io c'è tutti questi belli altari che vi fanno vedere che con le manine tutte perfette guardate guardate io così che vivo non è io vi faccio vedere così come stanno veramente le cose questo è il lavoro è come una fagnellameria una miniera io lavoro lo faccio porto al termine a tutti e ci metto tutta l'energia che ho però dovete collaborare per favore chi collabora con me arriva il risultato chi mi pressa io purtroppo anche anche se non voglio come se percepisco all'inconscio che la persona non si fida i rituali non vanno al porto purtroppo io questo che vi chiedo datemi se voi siete rivolti ma non solo a me qualsiasi pratico se voi siete rivolti date la fiducia al pratico altrimenti il vostro rito e sono buttati i soldi al fumo al fumo questo che vi chiedo per favore barbara peliccia come la capisco grazie barba lo so purtroppo io non non voglio a ogni volta uscire così però lavorando con la massa di gente così grande uno non non ce la fa a spiegare a ognuno così adesso almeno chi ha delle domande mando questo video mando questo video faccio link copia in colla mando video che se non parlo mille volte che già a sprecare il fiato anche per spiegare ogni volta è impossibile è impossibile oggi mi ha chiamato la signora oggi mi ha chiamato la signora stamattina ce l'avevo consulta mi ha detto che ha pagato un rito di avvicinamento tra l'altro che non gli ha funzionato 800 euro 800 euro io non c'è creduto ai miei orecchi voi sapete quanto costa allora le persone hanno pagato 120 e io adesso ho aumentato perché ho messo pure messo 150 vi spiego perché perché io ho messo adesso la partita iva ok perché la gente del posto quando venivano e pagavano normalmente e andava bene ma quando la gente comincia a parlare con le carte dopo io voglio essere pulita davanti perché se a me mi trovano qua in inghilterra sono precisi mi dicono come mai entrano questi soldi devo pagare le tasse quindi da 120 è salito a 150 le persone adesso che ordineranno ok e credetemi non sono tanti non sono tanti per lavoro di anche se faccio solamente 9 notti o 12 calcolate 12 12 per 7 candele di cera ogni sera in più in più lavoro di 12 notte allora 120 mi arrivavano 100 pound qua in inghilterra 50 mi andava per il materiale c'è l'argento da abbandonare l'incrocio e le candele io per 50 euro lavoravo in 12 notte è prezzo giusto ritengo perché non è che uno deve messo però 800 euro pagano per questi eliti e sono sicura che non lo fanno come le faccio io voi dovete fidarvi dal pratico se non mi fidate non dovete rivolgervi statevi a casa o lo fate da soli però se non vi fidate non vi rivolgete perché tanto già a prescente questo rito non non uscirà perché dall'umore del pratico quando un pratico poi noi siamo le persone si scordano che noi siamo sensitivi sensitivi noi percepiamo chi non si fida durante il rito quando io ho fiutato con mio cavolo del naso che la persona non si fida e questo è il guaio mi odio per questo e questo è il guaio dopo mi rimane sempre questo è un blocco per andare al porto per mandare al porto rito praticamente ha perso come tutti quanti voi quando voi fate una cosa con il cuore per una persona e questa persona gira la faccia scontenta voi avete voglia di continuare cercherete di disfarne prima possibile però io cerco comunque di portare al termine io voglio io voglio risultato e per avere risultato una volta voi siete rivolti a me dovete stare nelle mie condizioni quali non andare a piangere ogni volta perché con questo date fastidio questo non è più il mistero della pratica non andare dagli altri praticanti a controllare se rito è stato svolto o se sto lavorando anche perché vi sto mandando mi mandavo le foto tutte le sere adesso smetterò perché io voglio risultato non circo show chi se vuole fidare avrà risultato e chi non se vuole fidare a casa ok questo è importante era da dire buonanotte a tutti dovevo registrare rito stasera quello lì per i commercianti e registrarlo domani perché ancora c'ho tanto da fare adesso qui va bene saluto tutti e con voi era Lilia ciao 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 ciao